Con formidabile mostra pittorica allestita presso lo spazio espositivo Milioni, ma Silvio Craia, artista corridoniano di fama nazionale, torna a Macerata riproponendo al pubblico una personale. Già allestita nel 1962, momento di svolta del Craia pittore dal periodo figurativo a quello informale gestuale. Nel 1962 c'è stata questa rottura del figurativo e sono arrivato all'informale, anche gestuale, ma in particolar modo questa necessità di venire fuori con dei colori molto vivaci, con dei colori molto intenti che danno proprio la sensazione di questa mazeretà. Una mostra evento curata dall'Accademia di Belle Arti e dall'Associazione Amici a Macerata che è epilogo di un percorso di ricerca sul periodo dell'art nouveau maceratese e sui suoi esponenti più illustri tra cui proprio Craia e lo scenografo Dante Ferretti. La mostra che si è chiusa nei giorni scorsi riprenderà ad inizio ottobre proprio in occasione dell'apertura dell'anno accademico dell'Accademia di Belle Arti di Macerata. Questa mostra è stata l'anno voluta perché c'è tutto uno studio tramite l'Accademia per una ricerca che l'anno prossimo sarà perfezionata. Su questo periodo che a Macerata negli anni 60 si è sviluppata quest'arte. St'arte in particolar modo creata da giovani che uscivano dall'Istituto d'Arte e giovani anche di un certo interesse. Possiamo fare due nomi che sono importantissimi come Trubiani e Dante Ferretti. E c'ero anche io. E c'ero anche io.